Oggi ripassiamo due complementi, il complemento di causa e il complemento di fine, che sono due complementi ovviamente diversi, ma che devono essere trattati insieme perché a volte possiamo confonderci. Allora ho preparato alcune frasi. Cominciamo come al solito a farne l'analisi. Veniamo alla prima. Sono morto di paura. Bene, individuo subito il predicato. Chi compie l'azione di essere morto io, soggetto sottointeso, di paura. Qui è abbastanza intuitivo. Ci viene da chiederci perché sono morto, per quale motivo sono morto. Qual è la causa? E la risposta è abbastanza semplice. È la paura. Quindi io sono morto a causa di cosa? A causa della paura. Veniamo alla seconda. Ho perso l'inizio del film a causa sua. Ma qui è ancora più semplice perché addirittura mi viene detto. Io, soggetto sottointeso, ho perso che cosa l'inizio del film a specificazione. Ma perché ho perso l'inizio del film? Qual è stata la causa? Beh, a causa sua. Mi viene addirittura detto esplicitamente. Ma possono esserci altre preposizioni che introducono questo complemento. Nella terza frase io ho scritto Pino si è fermato per un dolore alla gamba. Si è fermato, predicato, verbale. Chi? Pino. Soggetto. Per quale motivo si è fermato? Per quale causa? Per un dolore. Anche in questo caso Per un dolore mi sta dicendo la causa per cui si è verificata l'azione espressa dal verbo. Quindi, questo complemento se io guardo come ormai dovrei aver imparato a fare il significato globale, intero della frase, non è un complemento difficile da identificare. Può essere introdotto da tante preposizioni qui abbiamo visto di qui abbiamo visto per può essere anche introdotto come nel caso della seconda frase a causa sua proprio da espressioni. Fino qui nessun problema. Noi abbiamo visto nelle lezioni precedenti che i complementi possono anche essere diciamo tra virgolette nascosti all'interno di piccole paroline di particelle pronominali. Veniamo all'ultima frase. Ho vinto un premio e ne sono felice. Intanto nel momento in cui io faccio la mia analisi individuo subito due predicati. Ho vinto e sono felice che è un predicato nominale. e allora io ormai ho imparato che se ci sono due predicati ci sono due frasi e devo immediatamente distinguerle e separarle. La prima è ho vinto un premio. Io soggetto sottointeso ho vinto che cosa? Un premio complemento oggetto. Ok. Ne sono felice. chi compie l'azione di essere felice è sempre io quindi sono sempre io il soggetto sottinteso come nel primo caso. Io sono felice e poi ho questo ne. Qual è la regolina che abbiamo imparato? Che tutte le volte che io ho una particella devo capirne il significato in che modo? Rendendolo esplicito rendendolo chiaro. Cosa significa in questo caso il mio ne? Significa a causa di ciò. Io sono felice di questa cosa che ho vinto un premio. ma allora anche in questo caso io avrò un complemento di causa perché in questo caso la particella ne mi sta dicendo il motivo per il quale io sono felice. Quindi riassumendo il complemento di causa è quel complemento che indica il motivo la causa per cui si verifica l'azione o la situazione espressa dal verbo può essere introdotto da molte diverse preposizioni o da alcune espressioni ma anche da particelle pronominali nel qual caso io non faccio altro che rendere esplicita la particella e individuare il complemento. Veniamo adesso al complemento di fine poi capirai perché li abbiamo messi insieme. Ho preparato due frasi veniamo alla prima gli alunni lavorano al progetto di scienze inizio come al solito qui c'è un predicato solo che lavorano predicato verbale chi compie l'azione di lavorare sono gli alunni e quindi scriverò soggetto lavorano al progetto di scienze quindi stanno lavorando a qualcosa che si sono posti come obiettivo e quindi io qui potrei chiedermi per quale motivo stanno lavorando? attenzione torniamo indietro è la stessa frase la stessa domanda che ci siamo posti qua per quale motivo? ma noi sappiamo perché ormai siamo diventati bravi che complementi diversi potrebbero anche essere introdotti da domande uguali come ci è capitato di vedere che complementi diversi possono essere introdotti dalle stesse preposizioni ma sappiamo anche che si chiama analisi logica e che quindi noi dobbiamo fare appello alla nostra capacità di ragionare il progetto è il motivo certo ma inteso come scopo come fine a cui io sto lavorando anzi a cui gli alunni stanno lavorando quindi la domanda è per quale fine per quale scopo stanno lavorando al progetto quindi vedi che la domanda in realtà può essere uguale nelle parole ma sta chiedendo qualcosa di diverso guardiamo l'altra frase siete pronti per la gara analizziamola siete pronti predicato chi voi soggetto sottinteso per la gara certo che anche qua potrei chiedermi per quale motivo ma attenzione è lo scopo io sono pronto in vista della gara quindi per la gara è complemento di fine o scopo ma come faccio ad essere sicuro di essermi posto la domanda giusta con un piccolo trucco in realtà non è un trucco è sempre il ragionamento che abbiamo impostato prima facci caso la gara è già accaduta? no voi siete pronti ma la gara arriverà dopo il progetto è già finito? no gli alunni stanno lavorando il progetto verrà terminato alla fine del loro lavoro controlliamo questo andiamo a prendere proprio Pino si è fermato per un dolore alla gamba perché ho scelto questa? perché c'è lo stesso per quindi la stessa preposizione che c'era nella frase siete pronti per la gara ma il dolore è già accaduto? certo perché prima gli è venuto il dolore alla gamba e dopo si è fermato allora il dolore c'è già stato sono morto di paura ma la paura è venuta prima e mi è venuta una tale paura che poi io sono morto quindi prima c'era la paura allora che cosa ho imparato? ho imparato che il complemento di causa mi sta dando un motivo che è già accaduto qualcosa che è già accaduto prima d'altra parte se è una causa si deve essere già manifestata no? altrimenti non è una causa invece il complemento di fine o scopo è qualcosa che deve ancora accadere che deve ancora realizzarsi perché perché è il motivo è il fine è lo scopo per cui io faccio qualcosa quindi ragionare anche su questo ti può aiutare a non sbagliare veniamo a un ultimo esempio ho comprato degli occhiali da sole ho comprato predicato verbale chi compie l'azione io soggetto sottinteso ho comprato che cosa degli occhiali che sarà il mio complemento oggetto e poi abbiamo da sole gli occhiali da sole non sono degli occhiali come gli altri non sono degli occhiali generici sono degli occhiali particolari il cui scopo è quello di avere delle lenti scure per ripararci dai raggi del sole ho che cosa ho detto il cui scopo infatti da sole complemento di fine perché perché da sole mi sta dicendo il motivo nel senso di lo scopo per cui quegli occhiali sono fatti quindi tutte le volte che tu troverai in qualche frase non so delle espressioni tipo sono stato in una sala da ballo da ballo è un complemento di fine perché mi sta dicendo il fine lo scopo per cui è stata approntata quella sala se io dico rotto le scarpe da ginnastica da ginnastica complemento di fine perché perché da ginnastica sono delle scarpe fatte in un modo particolare che servono per l'esercizio fisico quindi tutte le volte in cui ti troverai in questa situazione ricordati che quell'espressione è un complemento di fine di fine